Oggi è stata una riunione importantissima perché si è parlato veramente di quello che deve essere il nostro impegno nelle proposte per migliorare la scuola del domani. Un interesse a doppio campo, da una parte gli alunni, domandarci il perché della dispersione scolastica, dell'abbandono e dall'altra come la scuola deve adeguarsi, i docenti devono essere formati a una scuola tecnologica pronta alla digitalizzazione, adeguata ai tempi dei giovani, dei ragazzi, perché la dispersione si ha in quanto gli alunni non si sentono adeguati nel rapporto con i docenti. E questo noi lo dobbiamo capire e intervenire per migliorare il rapporto sia umano che professionale tra docente e discente. Un interesse particolare deve essere dato al sistema ecologico, abituare gli alunni al rispetto dell'ambiente. Questo è un punto fermo che la scuola deve necessariamente tenere presente e farà parte di un progetto, di un programma di lavoro di questa commissione formata da tanti stati che mirano alla soluzione dello stesso problema.